valigie pronte biglietti acquistati e hotel prenotato è tutto pronto per le vacanze ma una volta arrivati come farete a selezionare i migliori ristoranti e locali semplice con un'applicazione ve ne parlo tra poco qui su tech princess andare in vacanza all'estero è sempre una grande avventura dovete usare una lingua straniera muovervi in una città ignota e soprattutto riuscire a trovare ottimi locali e ristoranti in cui mangiare senza spendere un patrimonio a darvi una mano ci pensa yelp un'applicazione nata nel lontano 2004 per aiutare le persone a trovare le migliori attività locali disponibile sia sul web che per i vostri smartphone ios e android yelp è un servizio totalmente gratuito che si basa sulle valutazioni e sulle recensioni dei diversi utenti utilizzarlo è facilissimo tutto ciò che dovete fare e connettervi alla rete aprire l'applicazione e cliccare su una delle categorie presenti ci sono ristoranti bar locali dedicati alla vita notturna e posti dove fare colazione ma non solo yelp infatti vi aiuta a trovare anche distributori di benzina parafarmacie negozi in cui fare shopping e persino parrucchieri una volta scelto il tipo di attività commerciale vi si aprirà un lungo elenco di posti suggeriti che mostrano tre informazioni fondamentali l'indirizzo la distanza dal luogo in cui vi trovate e la fascia di prezzo se infatti trovate un solo simbolo dell'euro significa che il ristorante scelto è piuttosto economico se ne vedete invece 4 preparatevi a una spesa davvero sostanziosa a vostra disposizione naturalmente ci sono tantissimi filtri che vi aiutano a raffinare la ricerca potete indicare ad esempio quanto siete disposti a spendere quanto volete spostarvi per raggiungere il locale se preferite un posto che sia anche da sport oppure qualcosa di adatto anche ai bambini ad aiutarvi nella scelta ci sono poi le immancabili recensioni cliccando su una determinata attività commerciale potrete infatti leggere le recensioni degli altri utenti per capire se fa effettivamente il caso vostro all'interno della scheda del locale trovate anche la sua posizione le foto e la possibilità di aggiungerla ai preferiti naturalmente una volta visitato un determinato luogo anche voi potete dare il vostro contributo come dando un voto da 1 a 5 e lasciando la vostra recensione gli alpa infine un lato social avete infatti la possibilità di aggiungere i vostri amici e di sbirciare i loro check in per scoprire dove sono stati e quali posti raccomandano direi che anche per oggi è tutto io vado a cercare un buon ristorante in cui mangiare voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche ciao